Chi è il calciatore più forte al mondo in questo momento? Oggi risponderemo a questa domanda Nei mondiali appena trascorsi, due sono i giocatori che hanno spiccato soprattutto Lionel Messi, che col pallone insegna amore e dribbla i cammelli E Kylian Mbappé, una macchina da gol capace di correre a 100 km orari col pallone tra le gambe Ci troviamo davanti a un passaggio di consegne o ad oggi è ancora Messi il più forte? Scopriamoli insieme Buonasera, sono il pallone d'oro di YouTube Italia Anche lui ha vinto un pallone d'oro però Io non ha vinto ben sette Sette palloni d'oro e tu invece quanti ne viti? Io ho ancora nessuno però quest'anno vincerò il mondiale e anche il pallone d'oro Io alla tua età ne vado già quattro E io oggi sono qua per mettervi alla prova in punizioni, dribbling, colpi di testa e velocità signori Vi sentite pronti? Sì Oggi si decide il destino di uno di voi due Chi sarà il più forte? E allora cominciamo signori Che lo show abbia inizio Ma prima vogliamo parlarvi di Loot Boy Un'app che offre un servizio davvero fighissimo Una cosa bella è che è completamente gratuita Inoltre è disponibile per Android, iOS, App Gallery e addirittura PC Tramite Loot Boy puoi accumulare monete loot per aprire pacchetti loot gratis Inoltre c'è un nuovo fumetto ogni settimana E poi altra funzione importante è quella di diamanti Che servono per aprire gratuitamente pacchetti premium da 1,79 euro Ci sono ben due modi per aprire pacchetti loot premium Con i soldi veri oppure con i diamanti Io purtroppo non ho avuto molto tempo per guadagnare diamanti Quindi utilizzerò i soldi veri Se si comprano i pacchetti da 10 si hanno dei food points garantiti Adesso guardiamo insieme cosa ho trovato No vabbè ho trovato proprio quello che cercavo Altra cosa molto bella di Loot Boy è che non giocherai mai da solo Perché con la nuova funzione chat radar potrai trovare amici quando volete E la cosa bella è che anche questa funzione è ovviamente gratuita Quindi ragazzi mi raccomando date un'occhiata a Loot Boy tramite il link in descrizione E registrandovi usando questo codice avrete tantissimi vantaggi E allora cominciamo signori Che lo show abbia inizio Prima sfida tra Messi e Mbappé dribbling Entrambi i giocatori al mondiale ci hanno dimostrato di saperci fare Ma vediamo chi davvero è il più bravo 3 dribbling a testa Chi fa più gol vince Signore e signore benvenuti alla sfida finale Mbappé contro Messi Adesso è già partito Mbappé Mbappé contro Messi Uno contro uno L'oro supera Mbappé Che mira Bobbo Che mira Allora Starà Messi a dimostrare il perché di tutti questi palloni d'oro Mbappé Partito Messi Messi Uno punta E Mbappé Mbappé potrebbe saltare dentro del numero Mbappé Mamma mia È il fenomeno Il miglior debutto Mbappé Mbappé Ragazzi dobbiamo ringraziare di poter ammirare un giocatore così Veramente Da rosario Attenzione il principe Mbappé Francese Mbappé Il numero Non va Messi C'è Questa è la dimostrazione che il miglior giocatore del mondo sa anche difendere Io l'ho sempre detto Molti lo davano per scontato Mbappé Ma attenzione Riparte allora Messi Il terzo turno Mbappé Ma questo è stato veramente fortuna perché Messi è abbastanza stanco per questo Allora riparte per l'ultimo match il nostro principino Mbappé Francesco Intensore Mbappé Prova a bruciarle Mbappé 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 Irredibile Di Messi Da rosario E quindi questa primissima match termina in pareggio Seconda sfida signori e vi testerò nelle punizioni Da una parte c'è Messi il re delle punizioni Dall'altra c'è Mbappé che non ha mai realizzato un gol di punizione nella sua carriera Ma vedremo qui sul campo chi è il più forte Una punizione a testa E il primo che segna vince Sì Vai la nerottolo vai a tirare su Che mira Bobo Che mira che mira Mira che schifo mira Attenzione parte lo stesso Mbappé E allora parte di nuovo Messi Fiora il volo Piano Bobo Allora parte Mbappé Parte Dal Misseleste Che gol di Messi signori Ma che culo Anche proprio ora scusa L'ho tirata apposta nella barriera Da questa seconda manche abbiamo potuto dedurre che il più forte delle punizioni rimane Messi Non è anche bisogno di provare sinceramente Terza sfida tra Messi e Mbappé Meno città Al mondiale Mbappé contro il Marocco è riuscito a superare i 35 km orari Ma vediamo se anche Messi non sarà da meno E allora i due giocatori sono già pronti in posizione Il primo che riuscirà a superare per primo la rega di metà campo avrà vinto questa challenge Giocatori pronti al mio 3,2,1 Via! Attenzione Mbappé Attenzione Mbappé Attenzione Mbappé E vince Mbappé E vince Mbappé Caro Messi mi dispiace Gli anni si fanno sentire Ma qui il più veloce è il nostro giovane francese Kylian Mbappé Quarta sfida tra Messi e Mbappé Colpi di testa Io sono fortissimo Ho imparato da un mio collega Zinedine Zidane Assolutamente non hai mai fatto un gol di testa in finale di Champions E ovviamente il primo che realizzerà due gol di testa vincerà questa sfida Vediamo subito come siete messi Come siamo Mbappé Entrambi i giocatori sono pronti Alla attenzione Palla Vediamo Sarà il primo ad avventarci su questa palla Pallone a metà in mezzo dal piede delicato di Ghiac E teore E altro traversone in mezzo Bellissimo E se ha sentito Vanno specchio dalla porta Bravissimo Che mira bobo Che mira bobo Traversone dentro Per i due giocatori Attenzione Palla di testa Il 4-2 Lei sacca dentro È una volta buona di Messi Parte il traversone Anticipo di Messi Anticipo incredibile di Messi Allora vediamo Se Mbappé riuscirà a trovare il secondo gol Tacco meridioso di Mbappé Mbappé Si va a vincere questa Quarta manche E questo quanto altro di Giroud Complimentoni Complimentoni niente Adesso è arrivata l'ora dell'uno contro uno Questo ha vinto 6 palloni d'oro 7 palloni d'oro Veste essere migliore di me Manco quanti ne ho vinti Nel 1 contro 1 non c'è possibilità Veramente E allora Scintille Scintille Tra i due giocatori top player Uno contro uno Come la finale del mondiale Che ho vinto io Il video poi sarà uscito prima Però sappiamo che ha vinto la Francia Raga Si arriva i tre gol Signori Il primo che riuscirà a segnare per prima tre gol Vincerà questa cupa del mondo E' tutto pronto E allora per 3 2 1 Che abbia inizio Signore e signori Comincia questa emozionante partita Partita Una perdogna Mi fa perdogna Mamma mia Wow Il calcio non contano le giocate Non conta il bel calcio Conta la riattività La cattiveria La spietatezza E allora Messi 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 Mbappé Serie di calci Adani questa era una gran giocata Mamma mia che era una gran giocata Mamma mia ragazzi Da rosario Che giocatore Che giocatore Mamma mia Stiamo ammirando L'unico E unico E unico Miralo papi Miralo Mbappé Mbappé Kylian Kylian Attentore Kylian Prova a smarcarlo Doppio passo di Kylian Guarda Kylian Valla a bossa Kylian Prova a tiro Kylian Kylian Mbappé Giocatore Infinito Signori Ancora dubbi su che è più forte Taperino a Gnabry Ma non era Mbappé e Messi Taperino a Gnabry Ma chi sono Taperino a Gnabry Chi sono Taperino a Gnabry E allora Messi dovrà Ricoperrare Uno svantaggio di due gol Attenzione Vediamo se riuscirà a recuperare Messi Kylian Kylian Si avrà mangiato Kylian Complimentoni a Mbappé Che si è dimostrato Di gran lunga Il più forte Tra i due Ho vinto qui Anche il mondiale Spero che tra me Non ci siano più dubbi Che è più forte Tra Mbappé e Messi Dopo questo video ragazzi Le 27 di pallone d'oro Io ne vincerò 8 Commentate voi signori Se siete pro Mbappé O pro Messi Mi raccomando Lasciate un like Per questo magnifico video Per altri Video Da realizzare Bellissimi Che arriveranno sul canale Pirla svu signori Da Opsawel è tutto Ci vediamo in un prossimo video Bella Ragazzi Aspettate ragazzi Prima Se guardatevi Lootboy Con questo codice Avrete dei grandissimi vantaggi Quindi passate il link In descrizione Mi raccomando